io oggi, 2022, non inizierei a fare lo youtuber è perché ti spaventerebbe il fatto che è saturo cioè un mese di cenne che crede in sé decisamente poco rispetto a quanto ci posso credere oggi non inizierebbe mai un canale youtube nel 2022 bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement anche questa volta con un amico decisamente speciale sono molto contento, non era facile riuscire a beccarci non era facile, prima di accendere la telecamera abbiamo fatto un esperimento abbiamo visto il suo calendario, il mio calendario e giustamente lui ha detto se i nostri calendari si uniscono vengono sovrapposti, il mondo finisce e tutto esplode e sono molto contento perché è passato dal basement letteralmente Matteo Bruno addirittura c'è un applauso io schiaccio un tasto ma stanno applaudendo dalla stanza a fianco in un'altra città ciao in un'altra città bella Matteo allora sono davvero 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 felice ovviamente sono contento quando vengono gli amici da queste parti in realtà appunto non è mai facile beccarci ma beccarti perché anche tu fai proprio quel suono faccio dal lunedì al venerdì e poi a un certo punto si sente un orribbio suono di ossa rotta io implodo e poi mi riformo il lunedì mattina beh ovviamente non è che sei a Milano in vacanza sei passato da Milano per fare delle cose esatto c'era un evento c'era un giuria in un evento poi quando mi chiamano a fare queste cose chiedo proprio ragazzi pazzesco giudice di X Factor nessuno l'avrebbe mai detto ma è vero io penso che direi sì bravissimo a tutti perché proprio come fai a dire no a qualcuno è proprio una roba è difficile vabbè e quindi poi sono riuscito a passare qui e tra l'altro anche perché anche questo è uno di quei casi in cui abbiamo dovuto fermarci un attimo perché stavamo già chiacchierando troppo prima di iniziare poi alcuni concetti poi si perdono e noi vogliamo essere reali autentici e spontanei è stato molto bello iniziamo a dire cose belle sulla vita tipo no perché come va questa cosa no no aspetta non dirimelo non dirimelo non voglio sapere un po' problematici ecco abbastanza abbastanza comunque anche la roba del adesso che abbiamo detto scherzando prima del calendario è un fattore che dico oh adesso facciamo una chiacchierata con qualcuno non dico che può capirmi ma non solo me in realtà tantissime persone fortunatamente sono molto indaffarate però a volte è difficile riuscire a spiegarsi a persone ovviamente che fanno lavori lavori diversi innanzitutto io ti ho presentato come Matteo Bruno ma tu l'A.K.A. di Canesecco ce l'hai ancora? eh sì ce l'ho ancora ma perché alla fine come fai a liberarti di un nome così brutto? beh allora oggettivamente eh sì sì quando l'hai pensato non pensavi che poi tot anni dopo ancora sarebbe rimasto credo? ma perché allora è andata così io avevo effettivamente tipo 15 anni 15 anni quindi è il momento in cui fai le scelte sbagliate della vita ok e in una pizzeria un tizio questo pizzettaro pelatone mi fa eh ok io da ma sto Canesecco e quindi i miei amici hanno trovato molto divertente beh certo e hanno detto oggettivamente perché non chiamarti Canesecco anche nella vita reale e sono diventato Canesecco per i miei amici sì sì poi quindi mi apro tipo il blog di MSN queste cose qua e inizio a firmarmi come Canesecco ignaro del fatto che a Roma ci fosse un rapper che si chiama Canesecco è vero ma c'era già quando tu c'era già ah c'era già quando tu c'era già nel mondo del rap chiaro chiaro quindi io che cosa ne so io tutto pulitino bimbo kinder vado a sentire il rap di Canesecco cioè nel senso poi dopo l'ho conosciuto è una persona meravigliosa sì e vabbè lì sono le strane simmetrie lì è il multiverso ragazzi è il multiverso ci sono i due Canesecco dei due multiversi esattamente degli universi diversi e quindi a un certo punto poi quando tutto è un po' esploso e ha iniziato a funzionare il canale mi chiamo Canesecco continuo a chiamarmi Canesecco e quindi quello resta anche perché poi effettivamente ormai sono tanti anni che fai cose e le persone si sono affezionate a te anche per quel nome o da quel nome ma non contento quando ho aperto la mia casa di produzione video come l'ho chiamata è giusto Slim Dogs cioè cani secchi però in inglese sai come suona suona bene suona figo e un altro aspetto per cui sono sicuro che questa sarà una chiacchierata incredibile è che sei uno dei pochi secondo me in Italia che si è evoluto realmente nel tempo cioè che ha fatto diventare quella che era la sua passione un lavoro vero un mestiere che lo ha imparato strada facendo che però non ha mai dimenticato in qualche modo da dove viene quindi ha portato avanti degli universi paralleli ed è un parallelismo che a volte faccio con quello che invece faccio io perché è vero che anche da una parte ho iniziato facendo dei video su youtube facendo delle cose dall'altra stavo imparando un mestiere però ho utilizzato comunque i social per raccontare il dietro le quinte di quel mestiere che poteva essere la radio la tv o tante altre cose e tu l'hai fatto non dico da subito ma quanto ci hai messo ad arrivare a capire che questo sarebbe stato il tuo percorso? ma allora partiamo dal presupposto che secondo me un lavoro si può definire lavoro quando ci vivi cioè quando riesci a trarre del denaro da quello che tu fai e che magari ti piace anche comunque anche se non ti piace riesci a guadagnare dalle cose che fai quindi ci sono dei ragazzini adesso e mi sento di poter dire ragazzini dall'alto dei miei 31 anni che ci mangiano in testa almeno a me mi mangiano in testa perché sono molto più quadrati e quindi riescono a monetizzare molto prima però per me il lavoro non è mai stato l'obiettivo per me di lavoro non è mai stato fare il creator o fare l'influencer semplicemente perché non esisteva quando avevo l'età in cui decidi cosa vuoi fare da grande esisteva fare il videomaker per esempio e quindi io volevo fare il videomaker e infatti ho iniziato a fare il videomaker parallelamente a fare i video su youtube che ancora non si chiamava fare il creator o fare lo youtuber cioè se dicevi faccio lo youtuber la gente faceva eh cioè sembra roba del paleolitico ma in realtà sono 12 anni fa che comunque sono tanti beh adesso sì soprattutto quando il mondo va veloce come sta andando in questi anni signora mia non ci sono più le mezze stagioni non ci sono più gli youtuber di una volta meno male da certi punti di vista e quindi è successo che io volevo fare il videomaker ho iniziato a fare il videomaker con la classica cavetta per cui vai a fare da assistente a qualcuno e quindi il tuo scopo nella giornata è aprire e chiudere un cavalletto attaccare la presa di corrente della luce o montare un binario a terra su cui scorre il carrello quindi quelle cose con cui rubi con gli occhi sul set e poi a caso è esploso anche youtube con l'entità quindi tu quando hai iniziato a fare i video su online tu già stavi intraprendendo quella carriera da videomaker allora io da quando ho otto anni ho la telecamera in mano ok perché mio padre fa questo lavoro io sono sempre stato mega affascinato dal filmare il mondo e quindi a otto anni gli ho rotto talmente l'anima che hanno deciso di regalarmi una telecamera da quel momento ho iniziato proprio a vivere sì sì è incredibile poi è successo che al liceo con questa telecamera ho iniziato a fare tutta una serie di cose che caricavo quindi su youtube intorno ai 16 anni però erano cacate cioè il termine tecnico si è proprio cacate cacate e non serviva a nessuno nello scopo non era fare la viralità o chissà che io volevo solo mandare un link ai miei amici tramite msn e dire guarda cosa ho fatto e quindi mi serviva una piattaforma ho trovato questa che si chiamava youtube che anno era? 2006 2006 tutti quei video stupido me l'ho cancellati tutti questi primissimi video perché erano delle cacate erano proprio le cose come adesso ti mandi un video su whatsapp certo certo era oh ti faccio vedere questa cosa vabbè quando poi a 18 anni finito il liceo ho iniziato a fare la famosa gavetta del videomaker io lì avevo ancora questo canale e ci caricavo delle cose il primo video che ho fatto i numeri era della mia maturità io facevo una canzone ispirandomi a Risa che aveva fatto sincerità io ho fatto complicità cioè in questa canzone io dicevo che l'unico modo per uscire dalla maturità è copiare con la complicità degli amici e al mio esame orale il presidente di commissione esterno che era anche una persona sgradevole tanto a questo punto non posso avere conseguenze ormai è andata tutto in prescrizione e mi fa ah tu sei quello del video su internet no terribile perché hanno fatto gli articoli su giornali cose e vabbè quindi poi ha pregiudicato questo suo no sono uscito io volevo solo uscire non mi interessava ma qui non è quello che ti ha dato più di tutti all'inizio non era quello del tutti e quello era dopo quello è stato dopo io ho fatto tutti quelli che questo video dove prendevo per il culo i gruppi di facebook che però infatti amici che magari invece si state guardando siete più giovani di noi all'inizio facebook era usato semplicemente o tantissimo per fare questi gruppi di tutti quelli quelli che è una determinata cosa tipo tutti quelli che amano vivere e tu e tutti ci ritrovavi dentro sì anche io amo vivere anche tu ma che bello ma che alla fine poi è sempre tutto un grande senso di appartenenza a qualcosa lì era forse anche tu respiri grande quante cose in comune e beh tu su questa roba ci hai costruito quel video tra l'altro lì eri veramente piccolo a livello anche visivo avevo 19 18 anni sì sì non avevi la barbetta non avevo la barbetta quello è il tipico segno poi del diventare quello è chiaramente un segno poi ovviamente da lì ad oggi sono successo un miliardo un miliardo di cose e ad esempio sei stato il primo secondo me in Italia a fare impresa adesso uso una parola che è in Italia no no beh che ha avuto l'idea di dire sono uno youtuber già molto affermato perché in quel momento ero i tre principali youtuber avevi fatto delle cose anche con altri però costruiamo qualcos'altro cioè nel senso facciamo la casa di produzione facciamo guarda in realtà sì la prima idea buona dal punto di vista imprenditoriale ce l'abbiamo avuta io e Claudio Di Biaggio ah ok certo facendo Freaks che era una serie che paraculamente andava a inserire nel cast e insomma altri youtuber cioè quella è stata effettivamente una cosa che dici ammazza che bel progetto imprenditoriale così paraculamente butti dentro però non era però io ancora non c'era Slim Dogs è venuta dopo no no voglia però era tutto un po' inconsapevole cioè non era ancora basato sul case history di qualcun altro che l'ha fatto era tipo oh proviamoci l'idea non era per forza quella di fare i mega numeri ma di provare a fare una roba un po' diversa ok e poi quello ha funzionato molto beh quella è diventata come detto tu poi una case history forse una delle poche web series realmente molto seguita la prima stagione ha fatto proprio i mega bots sì sì io ricordo che vi osservavo da lontano insomma con qualcuno ci si conosceva poi ho seguito tutto anche quello che è avvenuto dopo con le persone che ne hanno fatto parte e cacchio quello era forse la cosa più simile a quello che è stato magari anche il mondo degli anni 80 o delle radio o delle tv tutto un po' pirata tutto un po' così e tutto molto complicità amici che vogliono fare qualcosa ti ricordi quando è nata quella roba lì quindi è nata da te Claudio giusto? sì eravamo in quattro alla fine il nucleo centrale di Freaks eravamo io Claudio Gianpaolo e Guglielmo Gianpaolo Speziale che al tempo aveva gli About Wayne la band che aveva fatto la sigla anche di Freaks e Guglielmo Scilla che in quel momento Will Bush sì 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 e lui lì anche lì era veramente arrivava dal periodo d'oro probabilmente di Youtube dove insomma è sempre stato anzi forse lui proprio il primo di tutti a fare questo questo genere di cose e di che anno stiamo parlando? lì era il 2010-11 ok 2010-11 comunque più di 10 anni fa sì sì ma lì avete provato prima a proporla a qualcuno e poi avete detto no se le parti diretti lo facciamo noi eh sì l'incoscienza dei vent'anni ti permette di fare cose incredibili io oggi non rifarei mai una roba del genere ma perché semplicemente è completamente folle per dirti non c'era un piano di lavorazione poi è incredibile stiamo parlando di freaks veramente come riparlare dell'infanzia non c'era un piano di lavorazione noi avevamo le puntate scritte abbiamo iniziato a girare sparso cioè domani se beccamo al parchetto giriamo due scene poi torniamo a casa le montiamo vediamo com'è e poi giriamo altre due cose poi magari invece una mega chiusa di 12 ore in mezzo a quel viottolo a girare questa cosa e poi si ritorna tutto a caso infatti siamo arrivati lunghissimi perché dopo un tot di riprese la serie doveva uscire abbiamo pubblicato il primo episodio che non avevamo finito di girare gli altri e quindi era tutto iniziare a girare scene e ficcarle dentro in caso tagliarle quelle che non riuscivamo a fare però lì è l'incoscienza adesso tu sai tutte queste cose perché ora sai come si lavora prima probabilmente era veramente una follia e meno male che non avevo un fratello maggiore della situazione che diceva no guarda che in realtà si fa così e no non l'avrei fatto ma ha avuto successo subito? ha avuto successo subito perché erano credo sei episodi e il primo è esploso avevamo caricato talmente tanto di hype perché poi c'era effettivamente meno roba su internet su youtube cioè al tempo era veramente più facile secondo me emergere se avevi un po' di capacità magari iniziavi a creare delle collaborazioni era proprio più facile io oggi 2022 non inizierei a fare lo youtuber perché ti spaventerebbe il fatto che è saturo un mese di cenne che crede in sé decisamente poco rispetto a quanto ci posso credere oggi non inizierebbe mai un canale youtube nel 2022 ma TikTok Instagram quello che è non inizierei qualcosa perché vedrai che c'è troppa troppa bravura e concorrenza in giro sì magari anche sbagliando perché poi invece magari emergeresti tranquillamente lo stesso perché poi il talento il contenuto poi fa la differenza dopo Freaks quindi è arrivata l'idea di dire ok questa cosa si può fare dopo sette anni di aver aperto un canale youtube e aver iniziato in qualche modo a fare il videomaker quindi dopo un po' di lavori in solitaria zainetto in spalla dove ogni volta ricrei un gruppo di lavoro è successo che abbiamo creato Slim Dogs che era questo gruppo di persone che già lavoravano insieme però come freelance ci siamo detti ragazzi proviamo a fare un po' di ordine proviamo a rendere questa cosa organizzata però ovviamente le cose non nascono subito bene quindi abbiamo iniziato siamo rimasti a galla per un tot di tempo cercando di far funzionare questo questo meccanismo che non conoscevamo perché nessuno di noi aveva studiato come si fa una società di produzione video avevamo conoscenze diverse avevi lavorato magari con delle società ma non era la tua ma perché poi la difficoltà più grande secondo me poi più che imparare delle nozioni tecniche che sono fondamentali però in qualche modo poi le impari è proprio imparare a gestire i ruoli all'interno di una società cioè la parte umana io faccio questo perché sono portato per questa cosa però sono meno bravo in questa roba qui quindi occupatene tu cioè industrializzarsi dividersi in reparti questa è una roba che solo vivendola secondo me la puoi imparare la puoi imparare cioè se ora dovessi rifare Slim Dogs da capo però in un mondo in cui ho già avuto Slim Dogs sarei molto più rapido nella prima fase poi non è detto che cambiando qualche pezzettino di questa formula il meccanismo sia comunque funzionante però lì hai avuto subito il coraggio di dire ok adesso ci mettiamo in gioco del tutto adesso anche proprio burocraticamente tu immagini avessi la tua partita IVA per i fatti tuoi eccetera e a un certo punto dici ok adesso però bisogna fare il passo più grande ci hai pensato o sei andato proprio distinto ma secondo me passare da la partita IVA quindi essere appunto il freelance zaino in spalla a fondare una società è proprio tipo un matrimonio cioè devi crederci talmente tanto che diventa per forza la cosa giusta da fare e non puoi tenere il piede in due scarpe cioè devi proprio far convergere tutte le tue forze tutti i tuoi contatti lavorativi parlando di cose anche pratiche perché se tu ti tieni qualche lavoretto che fai per i cazzi tuoi e poi qualcosa lo porti nella tua società hai fallito invece nel mio caso per esempio io avevo vari contatti con cui lavoravo e a questi contatti ho detto ragazzi io da domani non sono più Matteo il freelance che chiami e quindi gli dai 200 euro sono la società che ha altri costi e che quindi però ti porto una struttura molto più organizzata e ci devi credere perché già non è del tutto vero perché se hai una società appena aperta quindi non è vero che sei molto più bravo di ieri cioè sei uguale a ieri solo che costi di più e quindi c'è quel passaggio secondo me che è il momento chiave quando devi realmente diventare più valido di tanti freelance sparsi e deve diventare un valore comprare un prodotto fatto da Slim Dogs piuttosto che da un singolo e ti ha aiutato a livello professionale anche di posizionamento il fatto di essere canesecco cioè il fatto di aver un tuo percorso il fatto di raccontare anche quello che fate dietro le quinte della vostra società paradossalmente secondo me la cosa che è successa io al tempo non ci credevo per niente è che una roba che ci ha dato un'enorme spinta sono stati i vlog cioè sicuramente non è su quello che si è basato poi il far funzionare una società però far vedere verso il mondo esterno anche se poi di tutte le utenti le persone che ti vedono c'è solo una piccolissima percentuale di persone che ti possono dare un lavoro però creare questo polverone attorno a slim dogs di stiamo facendo cose le facciamo bene ma intanto ci divertiamo e che poi è la verità cioè non era recitato perché sennò sai che fatica a recitare tutto non è impossibile ti costa più di attori che di reale produzione però far vedere questa roba anche il mood con cui lavori è stata una roba fichissima e secondo me molto utile per far ingranare alcuni meccanismi di slim dogs infatti la mia poi risposta che mi ero dato osservandovi da fuori era che sì cioè la forza anche vostra il fatto cioè in un mondo in cui poi sempre di più adesso ci sono persone che fanno video anche perché c'è sempre bisogno di più video di immagini eccetera ti differenzi cioè inevitabilmente uno si affeziona a voi anche senza magari avere lavorato e poi appena c'è l'occasione magari vi tira vi tira in mezzo per fare qualcosa c'è qualcosa invece in cui ti sei sentito svantaggiato da questa cosa? sicuramente quando come società di produzione fai il salto da faccio il videoclip musicale o la piccola produzione a faccio un'intera produzione per un programma per un canale tv gigantesco o mi affidano tutta la campagna pubblicitaria di un brand quel momento di passaggio devi far capire che non sei solo molto divertente che la cosa comunque alla fine viene bene ma che sei proprio un professionista con le palle cioè quindi devi attaccare ancora più forte di uno che già è capace perché devi anche far vedere che lo sai fare cioè non basta il vlog capito? il vlog secondo me è più farlo vedere in maniera pop cioè ah guarda ho costruito il set usando le cantinelle di legno mi ci sono divertito bello verso il cliente poi devi proprio fargli vedere il lavoro che viene bene e quindi devi imbroccare quei due o tre lavori magari grossi belli e a quel punto poi è un meccanismo che inizia a girare e adesso noi siamo proprio in un meccanismo che sta girando no anche perché state facendo dei lavori con partner molto grandi cioè di professionisti allo stato puro da entrambe le parti ti è mai capitato un episodio o qualcosa per cui magari tu eri arrivato qualcuno ha preso con sufficienza magari all'inizio non è arrivato lo youtuber adesso eccetera e poi gli hai fatto vedere che invece c'erano sotto diciamo due balls forse più prima cioè quando dice ah ma tu fai video su youtube quindi non sai fare questo lavoro forse era più qualche anno fa perché perché mi mancava magari avere tanto tanta roba da far vedere come società a qualcuno quindi se adesso mi contatta il brand x e dice sai fare questa cosa io gli posso far vedere 15 lavori enormi magari molto belli molto curati molto veri e quindi la cosa dello youtuber decade immediatamente infatti ci siamo potuti permettere negli ultimi due anni di mettere su un piano editoriale anche della società cioè su youtube slim dogs è diventata un creator e facciamo settimanalmente e quotidianamente contenuti escono continuamente robe io è quello che mi chiedo come fate cioè nel senso non siete due milioni siete comunque un numero un team una squadra eccetera però riuscire a lavorare sia a delle produzioni grosse che fate con nomi importanti ma sia portare avanti il vostro canale editoriale è tosta perché poi hai visto la mia faccia cioè nel senso vorrei uno zoom sulle mie occhiaie in questo momento grazie molto gentile cioè ovviamente ti corrode da dentro però secondo me è proprio il modo in cui noi riusciamo a essere un team così largo cioè noi siamo 15 persone in questo momento dentro lo studio tutti i giorni più tutti i vari collaboratori quindi due giorni fa stavamo su un set ed eravamo una ventina di persone ma nel frattempo in studio c'erano altre dieci persone che stavano lavorando quindi a seconda poi del progetto coinvolgiamo gruppi di professioni 15 persone è una bella realtà comunque 15 persone ti fa cacare sotto perché se tu fai un conto di quanto costa ogni giorno di Slim Dogs ci pensi se va bene poi fai i conti e dici va bene e quindi vai avanti è tutto a posto però ecco è tutto incredibilmente incastrato per cui se il lunedì bisogna girare il format come cazzo hanno fatto che è uno dei nostri format del canale youtube allora vuol dire che lunedì pomeriggio dalle 14 si gira la mattina c'è una persona che sta allestendo il set o comunque rimettendo le cose che devono essere rimesse a posto e quindi quella persona non deve essere occupata in un'altra lavorazione quindi è tutto un incastro incredibile per cui poi se ci pensi c'è anche quindi quante macchine da presa servono per come cazzo hanno fatto due perfetto quindi se nel frattempo c'è una troupe fuori ci bastano le macchine da presa bisogna affittarne un'altra è tutto un io ho mal di testa solo mentre stai raccontando questa roba è un cubo di rubik infernale che però con secondo me due anni più o meno di training siamo riusciti a rendere fluido efficiente e non ci pesa cioè in questo momento è solo faticoso è solo impegnativo però non è devastante adesso c'è uno schema c'è c'è uno schema che va che va rispettato ma a partire proprio da dove poggi il cavo nel magazzino che è una cosa che abbiamo fatto recentemente abbiamo proprio ottimizzato le posizioni delle cose in base a quando le devi usare chi le deve prendere cioè è bello e l'abbiamo fatto nel modo più semplice e intuitivo possibile cioè con dei post con le suggestion box cioè ogni reparto ha messo i suoi suggerimenti abbiamo pure fatto un video su questa cosa tipo reparto ripresa che cosa è che non va cosa possiamo migliorare bam tutti i bigliettini poi l'abbiamo fatto reparto post produzione cosa non ti funziona tipo mi spariscono i cavi usb perfetto abbiamo fatto delle fascette di cavi per ogni impostazione che sono bloccate al tavolo nessuno può toccarle tranne chi sta al computer bello beh fighissimo ti accorgi mai cioè ve lo ricavate un momento per comunicare tra di voi cioè perché alla fine quando mi accorgo che quando sei talmente preso con le cose da fare continui a fare a fare a fare ma non trovi mai quel momento in cui ricerchi di mettere le cose un po' in ordine allora infatti questa è proprio la cosa più difficile di tutte come dicevamo all'inizio la parte complessa di questo lavoro di squadra non è tanto la roba tecnica del tasto da premere quanto mantenere poi un equilibrio umano ed è la cosa più fragile perché poi basta che fai due o tre volte chiudi un occhio di troppo e dici vabbè dai andiamo avanti questa non gliela dico oppure in questo caso ero un po' in difficoltà ma mi faccio i cazzi miei che inizi a incrinare le cose e poi magari ti rispondi male e lì è come essere dei coinquilini dentro una casa cioè ed è la sfida più grande quindi ci riusciamo ogni tanto falliamo perché poi succede quella volta in cui ti dici oh senti però hai proprio rotto il cazzo con questa cosa ti devi calmare e poi però fai pace e ricominci e è la vita se fosse tutto mulino bianco pazzesco non sareste neanche cresciuti probabilmente poi sono quelle cose che ti fanno effettivamente effettivamente crescere c'è stato un momento di questo percorso fino ad oggi dove hai detto non ce la faccio questa cosa non ce la faccio ti dico la volta in cui ho rosicato di più perché ci eravamo messi dentro un progetto era poi uno dei progetti che mi ha dato più soddisfazione in realtà degli ultimi anni questo cortometraggio che era un progetto fatto su twitch si chiamava short movie live praticamente l'idea era di fare un cortometraggio ma interamente in live cioè tutte le fasi della creazione del cortometraggio erano fatte in live quindi noi come slim dogs abbiamo un canale twitch ci abbiamo fatto varie dirette di vario tipo insomma le classiche live di intrattenimento sempre a tema cinema e il progetto nasceva così dateci delle idee noi vi diamo un tema tipo videogiochi createci domandateci del tre righe su dei cortometraggi che potrebbero essere a tema videogiochi ci hanno mandato una tonnellata di idee poi abbiamo fatto il pitch factor cioè la gente arrivava e doveva fare un pitch da un minuto in cui ci raccontava il cortometraggio l'idea vincente poi l'abbiamo sviluppata con uno sceneggiatore in live quindi ci ha fatto vedere tutta la mappa tutti gli schemi di come si dovevano muovere i personaggi cosa doveva succedere abbiamo riscritto anche in live perché alcune cose andavano modificate abbiamo fatto le live della preproduzione per far capire dove andavano i soldi come andava fatta questa cioè perché come come cazzo hanno fatto nella vita reale e poi abbiamo fatto i sopralluoghi in live abbiamo fatto la produzione in live quindi sul set eravamo non lo so 30 persone tante persone e c'era uno col telefono Marco nello specifico che oggi non è qui mi dispiace che doveva essere qui doveva essere qui è nel nostro cuore no vabbè però non è ancora e stava con questo telefono a fare la live tutto il tempo cioè 10 ore di live dal set con la gente che faceva domande ma era una roba complicatissima capito perché lo odiavo in corsa questa cosa però poi però poi il corto è venuto una ficata per ora ancora non è pubblico l'hanno visto le persone che hanno finanziato esatto uno dei perks era vedere il corto al cinema però è venuto una ficata vedendolo dico cavolo non è proprio valsa la pena però se ripenso a come stavo durante la produzione volevo strapparmi e qua il punto secondo me poi focale di un sacco di cose di chi fa così cioè uno ti sente dire questa roba ha sentito la chiacchierata di tutto quello che fate che fai eccetera chi te lo fa fare di dire ma adesso faccio anche questa cosa su twitch dove c'è hai già un miliardo di cose hai già questa chi te lo arriverà qualcuno ogni tanto ti dice ma chi te lo fa fare di fare sta cosa è che te piace cioè ti fotte questa cosa perché poi il fatto che sia così bello fare questo lavoro se ti piace perché sennò è una maledizione cioè diventa una roba io due giorni fa ti raccontavo che stavo girando questa roba per prime video e avevo ero vestito da militare perché era una sorta di cosa in pov quindi si vedevano le mani io ero un militare dovevo interagire con dei computer pistole una roba fuori di testa e quindi era 35 gradi in un sottotetto di lamiera stavo morendo di caldo vestito con la mimetica e i stivali il casco che pesava quanto non lo so uno spallaccio attaccato alla testa e stavo morendo però ero fomentato come un idiota cioè ero contentissimo quando rivedevo l'inquadratura mi levavano questo casco sembrava mi sfilassero il cervello tutto scudato tutto sgancherato arrivavo là lo guardavo e facevo che figata facciamone un'altra perché è proprio una droga non si può spiegare o la provi ma vale anche per altri settori nel senso che poi uno dice ogni tanto vedo anche gente invasata di matematica che uno dice ma come cazzo è possibile devi trovare quella cosa per cui anche tu sei disposto a fare delle cose che magari quando le vedi tornando indietro dici ma come ho fatto a fare quella cosa è come il bricolage io sono grande appassionato di bricolage e c'è sempre quel momento in cui ti viene un'ottima idea secondo te è ottima la inizi a realizzare ma non hai le competenze per farlo arrivi con questi pezzi di legno mezzi sgangherati attaccati lì e pensi oh no potevo andare dai che a comprarlo veniva a me mi costava quasi meno e poi però superato quello scalino è tutto in discesa perché poi quando vedi quel mobiletto che hai costruito tu dici wow lo abbracci diventa roba tu ma infatti a tal proposito per me sei tipo tutto il contrario di me quindi sei il MacGyver di queste cose qui no e in particolare ti ricordi una MacGyverata che hai fatto su qualche set che proprio ti è rimasta impressa che dici cazzo lì abbiamo avuto un'idea che sembrava una roba cioè già prima parlavamo del tavolo ti ho detto due o tre cose tu mi hai detto ma certo ma basta che fai un buco qua poi fai il buco là prendi questo e io mi stavano già sanguinando le orecchie e gli occhi la cosa che a me piace del nostro lavoro è che alla fine è proprio come giocare con le costruzioni cioè tu puoi o seguire le istruzioni e quindi puoi fare quell'oggetto quella cosa bellissimo lo esponi a posto io tipo le costruzioni Lego le ho sempre usate in un altro modo cioè costruivo l'oggetto dicevo bello questa soddisfazione durava dieci secondi poi lo distruggevo e costruivo altre cose fuori dal libretto di istruzioni fuori dal libretto di istruzioni perché in qualche modo avevo mi annoiavo di vedere una roba statica sapendo che avrei potuto prendere mille forme diverse e lì pure il bricolage è la stessa cosa tu hai dieci pezzi di legno puoi montarli in mille modi diversi e poi può diventare mille cose diverse nel videomaking soprattutto quando costruisci un set per esempio quindi questa situazione qua che ha senso ripreso così già che lo riprendi cosa è un'altra cosa hai infinite possibilità cioè tu questa luce la puoi mettere su uno stativo oppure puoi partire con delle catenelle da sopra e calare questa luce poi non è questa luce vabbè compri una plafoniera all'erua merlin o a bricoman e la attacchi e ci metti due pezzi di cartone sbombolettati neri cioè ispirandoti a quello che esiste nel mondo vero puoi tranquillamente vero intendo quando compri una cosa già fatta puoi tranquillamente ricrearlo per i fatti tuoi magari spendendo molto meno certo io adesso il mio canale voglio provare a dargli una deriva un po' più do it yourself del videomaking perché mi sono accorto che nella giornata sono tantissime le volte in cui prendo il frullino e taglio a pezzi delle cose per poi attaccarle alla macchina da presa e funzionano e magari potrebbe essere fico raccontarlo beh sì anche solo per vedere uno che taglia a pezzi le cose sì credo che sia un trend che può tranquillamente andare un casino anche perché ce n'è tanta di gente appassionata o che vuole o magari imbranata come il sottoscritto su queste cose ecco aspetta ce l'ho scusa ho pensato recentemente abbiamo fatto questo set per una produzione di Discovery e abbiamo costruito dentro il nostro studio una tenda da campeggio enorme cioè la tenda da campeggio era grossa quanto la stanza e quindi c'era questo telaio di legno tutto retto da fil di ferro viti e cose con delle stoffe che però c'è era dici fai prima a comprare una tenda sì però poi non hai lo spazio per mettere le macchine da presa quindi era una tenda ma non tenda un lato era moncato era vuoto e tutto era attaccato al soffitto con queste zampettine rachitiche che reggevano poi però visto dal vivo dicevi oh no siamo diventati poveri è una baraccopoli poi però ti giravi lo guardavi nel monitor e facevi ah e quindi qua si collega una cosa che mi dicevi prima in realtà che iniziassimo la chiacchierata con la telecamera che non è importante che funzioni nella vita la grande verità dei set quando costruisci qualcosa che deve avere senso per la macchina da presa se poi lo guardi con gli occhi e dici fa schifo fregatene cioè deve essere bello per la macchina da presa se è un set se è a casa tua è un problema quindi era non è importante che funzioni nella vita ma è importante che funzioni in macchina esattamente e funziona a proposito di vita in tutto questo noi ti abbiamo citato la vita privata la vita sociale come si colloca? ma io ho sempre tenuto ho creato una sorta di muro tra quello che è la mia vita veramente privata quindi partendo da genitori fratelli rapporti personali la coppia le cose perché io ho vloggato settimanalmente per 4-5 anni se io ci avessi messo anche la mia vita molto privata probabilmente sarei impazzito cioè guarda Casey Neistat per esempio citando il king dei vlog lui probabilmente a un certo punto è impazzito recentemente ho visto un'intervista in cui diceva mia moglie spesso mi diceva il weekend ma non ti puoi fermare un giorno dal vloggare e lui faceva no devo farlo perché e magari stava in vacanza e non sapeva neanche più perché stava vloggando lo faceva perché lo doveva fare quindi nella mia testa c'è sempre stato io sono un po' quadrato su questa cosa di tracciare una linea definita che non è che recito una parte ma semplicemente tolgo dei pezzettini che poi sono quelli che lascio per per i fatti miei è anche giusto nel senso per come funziona la mia testa questa roba mi aiuta tanto quindi non è buono a livello social cioè se io dovessi creare un influencer non gli metterei questa caratteristica però alla fine è un sottile è una linea sottilissima nel senso che poi quella è la tua vita quindi in qualche modo devi forse preservarti delle cose sì cioè ci sta poi ognuno fa vedere quello che vuole come dicevi tu probabilmente dicevi questo perché la parte poi privata è anche quella che funziona tanto sui social network mamma mia cioè il meccanismo che mi era scattato a un certo punto e poi è quando ho pensato di interrompere i vlog settimanali e provare a cambiare quello che stavo facendo su youtube è che succedeva qualcosa nella vita lavorativa che era la principale cosa che raccontavo su youtube succedeva una roba e pensavo oh no devo riprenderla cioè magari stava succedendo che ne so il compleanno di qualcuno c'era la torta io facevo cazzo non sto riprendendo però questo diventa un problema a un certo punto pensa a questo nella vita reale cioè torni a casa dalla tua compagna porti un regalino lei è contenta e pensi oh cazzo è contenta dovevo riprenderlo no cioè questa cosa deve per me almeno deve rimanere da una parte ci sono a me purtroppo è capitato qualche volta però mi sono fermato mi sono fermato prima cioè ci sono dei momenti che decido di tenere tipo ad esempio la proposta di matrimonio fatta mia moglie l'ho voluta l'ho voluta tenere solo per me lei ma poi è soggettivo è totalmente soggettivo poi dall'altra parte io condivido invece magari anche tanto della mia vita della mia vita personale però poi ci sono delle cose che ti devi tenere ma io sono quadrato cioè io questa cosa non mi aiuta io forse andrò in analisi a un certo punto e sarà bello perché diventare così quadrati quindi mettere un muro così netto tra la tua vita privata e la vita pubblica non è sempre una cosa bella perché è come se a un certo punto dovessi per forza individuare quella cosa in che insieme rientra e quindi va in tilt cioè io poi sono un po' una persona da loop cioè che pensa a una cosa però non è ci tengo cioè non è che tu hai una maschera tu sei così sempre non è che quando uno va su se vlog in un modo sei fuori sei crusty clown sai quando non fa esatto che se no capito cinque anni di vlog facendo finta di essere una persona è tipo impossibile no invece no serve a mantenere a preservare una salute però al di là oltre del raccontare ci sono credo delle difficoltà anche tecniche facendo tutte queste cose nel gestire anche una anche semplicemente una fidanzata che giustamente richiede delle tue delle attenzioni o delle cose quello però è come qualunque lavoro cioè se fai il camionista e quindi devi stare col tuo tir per dieci giorni tra le autostrade della Svizzera per poi tornare ogni lavoro ha le sue grosse difficoltà secondo me l'unica differenza tra un lavoro che non coinvolge altre persone tipo un pubblico e un lavoro che invece lo coinvolge tipo l'influencer è che poi l'altra persona non ha per forza la scelta su cosa vuole condividere o meno cioè per esempio verso i miei genitori il mio pensiero è sempre stato li metto nei video li racconto cioè a me per esempio piacerebbe l'idea di provare a raccontare mio padre il lavoro che fa cioè capito è un uomo adulto che mi ha messo addosso questa voglia di fare questo lavoro senza mai dirmi nulla semplicemente perché io lo vedevo a lui piaceva questo lavoro quindi ho pensato evidentemente è una cosa figa e ho iniziato a farlo però poi non mi va neanche che lui sia un pezzo di un mio video cioè in qualche modo se lui si aprisse un canale youtube sta dicendo una cosa che non credo sia realizzabile perché non credo gli vada se lui si aprisse un canale youtube poi ci farei una collaborazione ok però non vorrei metterlo nel mio non vuoi tirarlo in mezzo tu se lui non lo chiede diciamo esatto poi è ovvio che se domani mi chiami e fa senti ma te facciamo un video in cui ti racconto come giravo con le telecamere a spalla confrontato con te che giri con le telecamere questo è un video fighissimo fighissimo esatto è davvero figo adesso allora lo chiamo no fallo è una bomba ma anche emotivamente cioè se io penso alle difficoltà che ci ha avuto lui a iniziare questo lavoro e a quello che sto facendo io anche solo economicamente cioè noi viviamo secondo me nella abbiamo la sindrome del reso di amazon cioè noi abbiamo è tutto reversibile per noi questa cosa secondo me rientra anche nei rapporti umani con tinder annessi e connessi cioè che puoi fare sì o no ti rifiuto ti accetto poi ti cancello command z tutto un loop che abbiamo nella nostra vita se tu vuoi fare il videomaker oggi ti svegli e dici ah ho deciso voglio fare il videomaker vai su amazon ti compri una macchinetta da 800 euro un obiettivo un computer una cosa spendi 5 mila euro dai più o meno puoi iniziare a fare questo lavoro poi non hai le capacità però tecnicamente lo potresti fare se tra un mese ti accorgi che hai sbagliato tu fai il reso ti ridanni i soldi dopo un po' ti bloccano l'account però facciamo che ti ridanni i soldi almeno una volta lo puoi fare però questa cosa ti dà secondo me un senso di reversibilità sulle tue scelte quando mio padre ha iniziato a fare questo lavoro ha chiesto dei soldi in prestito alla banca perché ha dovuto spendere al tempo 100 milioni di lire quindi tipo 100 mila euro di oggi che è quanto ho pagato casa mia quindi cioè era proprio una scelta diversa non è che poi tornavi al negozio e gli ridavi la telecamera cioè lì doveva proprio andare bene non ci sono altre strade non era per celebrare cosa pensa cosa pensa di te di quello che stai facendo di quello che hai messo in piedi glielo chiediamo adesso perché è qui con noi no non è vero dall'Honduras così posti a caso ma non lo so secondo me quando ci chiacchieriamo la cosa figa è che lui continua ad essere completamente impallinato di questo settore quindi cacchio si guarda i tuoi video sì cioè ma recentemente tra l'altro è successo che si è comprato una macchina da presa dopo aver visto una recensione che avevo fatto della macchina da presa e ogni tanto mi manda i messaggi e fa no vabbè è una figata questa funzione ho provato la cosa la correzione del focus breathing dell'ottica e quindi bello perché comunque se nel momento in cui dovresti esserti annoiato in teoria del tuo lavoro o almeno è diventata una cosa normale secondo me questo lavoro ha la caratteristica di rimanere sempre un po' un gioco quindi ti si diverti è una passione e quindi più che andare da lui e dire papà sei fiero di me di quello che faccio è più un tipo come va la macchina come funziona l'autofocus avete un grande argomento di discussione comune infatti mia madre ci odia da questo punto di vista però è bellissimo questa cosa è grande complicità che magari tanti padri cercano magari con i figli e viceversa voi avete questo secondo me la chiave è stata che lui non mi ha mai detto fai questo lavoro cioè ehi figliolo vieni con me ti faccio vedere comunque è come se tu stessi portando avanti in qualche modo l'azienda di famiglia pur cambiando delle cose soprattutto l'evoluzione perché poi quella cosa lì è cambiata è cambiata tantissimo quindi stai facendo la versione 2.0 qual è la cosa fino ad oggi che hai fatto tra le collaborazioni che con slim dogs eccetera che dici cacchio io sono partito che ho fatto il mio video di quello che abbiamo detto prima magari quello sulla complicità e adesso sono qui con oppure sto facendo questa cosa per allora tra l'altro l'abbiamo fatto per la stessa realtà action aid anche tu hai fatto roba quello è stato forse il lavoro che mi ha fatto proprio pensare ora sembra la cosa che uno dice patetica per fare ah che carino ha detto che ha salvato i bambini no però proprio parlando di cose pratiche effettivamente il fatto di tornare un anno dopo nel luogo che avevo visto con i bambini e facevo una lezione sotto l'albero che è il grande stereotipo che poi è verità e vedere un pezzo di scuola e sapere che quelli di action aid mi hanno detto lo sai che un pezzo di questa cosa è stato costruito grazie alla campagna che avete fatto l'anno scorso ecco lì ho proprio detto vedi non è solo che bello ho conosciuto Tarantino poi non l'ho conosciuto Tarantino però ho fatto capito è anche Tarantino è qui è qui dall'Honduras anche lui no però ecco lì c'è stato proprio la cosa di dire vedi servo a qualcosa cioè non è solo e lì era stato veramente figo il primo video anche l'idea che avevate avuto per raccontarlo quello di Giuliana che vloggava Cecilia è stato divertente perché poi fuori di testa sì cioè io sono arrivato da una persona che non aveva mai usato una telecamera ma poi e sapeva vloggare meglio di me no più che altro è l'istinto proprio però loro che si rivedono poi nei video è clamoroso cioè una cosa beh vedi quello è un grande risultato che poi possono vedere effettivamente tutti cavolo insomma di cose ne sono successe tante della vecchia scena tra virgolette con cui avete iniziato su youtube siete rimasto in contatto con tutti allora diciamo che la cosa fica secondo me è che essendo poi tutto un eravamo talmente pochi all'inizio su youtube che poi in qualche modo c'era sempre quello oh vedi chi c'è sta magari non ti eri mai visto però già ti conoscevi sì in qualche modo avevi condiviso un'esperienza c'era lì sempre un senso d'appartenenza allo stesso gruppo e lo stesso senso di appartenenza che adesso per esempio mi fa sentire un po' vecchio rispetto a tiktok cioè quello poi volevo chiederti non tanto tiktok ma in generale prima hai citato twitch cioè quando arrivano queste cose nuove a me è una roba che ogni giorno dici cazzo adesso c'è anche questa cosa qui oh no come ci si pone davanti a questa cosa qui cioè io tiktok ho iniziato forse a capirlo adesso che può essere un qualcosa che in cui puoi trovare anche il tuo codice per poter raccontare le cose con quel linguaggio però come la come la vivi perché ad esempio tu adesso l'hai citato per il senso d'appartenenza perché forse ti dà meno quella cosa lì come ti poni quando arrivano queste realtà nuove allora a me piace imparare cose nuove però allo stesso tempo mi spaventa quando non ci capisco assolutamente nulla quindi per esempio parlando di sport faccio arrampicata quindi se poi mi dici andiamo a fare la ferrata si chiama quella dove stai con non l'ho mai fatto non so neanche come si chiama la mia palese però ti dico fichissimo perché è una roba un po' diversa ma rientra nel quindi teoricamente tiktok per esempio è simile a instagram è formato verticale hai pochi secondi per fare qualcosa però c'è qualche meccanismo lì dentro che ancora io non ho decodificato la questione di come funzionano i trend cioè proprio il meccanismo mentale dietro tiktok esiste un suono e tu fai la tua versione solo visiva di quel suono interpretandola quindi cos'è che funziona il suono o tu in relazione al suono c'è ancora qualcosa che non ho compreso mi ci sto avvicinando con i reel da instagram quindi sto facendo un passetto alla volta ok magari sarò troppo lento quindi quando avrò capito quel meccanismo sarà uscito pem pem il nuovo social in cui devi staccarti gli occhi e metterli nell'usb però sui reel sto provando a fare una sorta di trasposizione di quello che facevo nei vlog ancora non è uscito nulla perché ci sto lavorando sto facendo delle prove quindi per esempio i vari trick da videomaker l'altro giorno stavo con un seghetto da ferro a tagliare un cage della macchina da presa abbiamo detto senti facciamo un reel come trasformo questo oggetto che non mi serviva più in un oggetto che oggi dovrei pagare 100 euro bam 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 taglio musica però per fare sto video ci vuole tempo per farlo poi come lo vorresti fare tu quindi qualitativamente alto ecco lì non devo incastrarmi nel fatto che deve essere tutto girato con l'alexa tutto cinema no lì devi girare col telefono devi montare in 10 secondi perché ne devi fare tanti quindi meno paranoie meno pippe su la color non è match non la fai la color no anche perché alcune cose a volte funzionano quando sono un po' più sporche ultimamente vedo che molti tendono anche io su alcune cose mi sono impegnato per farle più sporche perché però capito c'è lì è una doppia fatica allora ecco la cosa difficile forse è capire dove devi investire le tue energie perché poi finisci a un certo punto e siccome siamo già finiti da un po' dobbiamo solo capire dove rinvestire quelle che stiamo usando male l'ultima cosa è le persone che ti seguono io ho sempre percepito che sei molto amato cioè le persone ti vogliono ti vogliono bene ora non ho mai visto haters o cose nei tuoi confronti e questo è figo insomma di solito è il risultato di chi ha fatto un percorso di chi sta facendo un percorso autentico reale in realtà sono una merda in realtà questa cosa che quando sei entrato hai cagato all'ingresso comunque voglio dire sempre è la mia abitudine che devo fare no insomma che rapporto hai io immagino che tante persone hanno iniziato a fare video perché hanno visto te madonna non hai idea che vengono da te e ti dicono cazzo tu mi hai fatto aprire la partita esatto bravo me ne sono reso conto quando recentemente ho fatto una collaborazione con fatture in cloud ah certo che è effettivamente una roba su cui ci dobbiamo tutti rapportare adesso la fatturazione elettronica questa roba è qua e ho visto quanta gente quanti liberi professionisti mi hanno detto ah ok allora dai capisco come fare grazie che mi hai dato qualche dritta anche solo che saranno dimenticati che dal primo luglio devi fare la fatturazione elettronica tutte queste cose qua che sono meno romantiche magari del resto che abbiamo raccontato ma è la vita vera cioè devi pagare tasse se ti arriva la lettera verde dell'agenzia dell'entrata ti devi cacare in mano poi l'apri e capisci che devi solo fare il signore degli anelli vabbè comunque ok vedere che c'è tanta gente che ha affrontato il mondo lavorativo in qualche modo ispirata o anche solo perché ha visto che mi piace mi spaventa in qualche modo perché ovviamente è una responsabilità tu stai dicendo a una persona che il tuo lavoro è bello però io provo anche a dirgli quanto certe volte è pesante nei vlog abbiamo spesso provato a raccontare quanto fa paura avere dei dipendenti quanto fa paura a spendere i soldi per fare qualcosa in un momento in cui non dovresti fare niente cioè post lockdown abbiamo allargato lo studio ma tipo che ancora stavamo tutti che non si sapeva se potevi uscire di casa il giorno dopo o meno quindi cioè comunicare che è bello il tuo lavoro ha sempre questa doppia faccia è fico perché poi la gente si fomenta però è rischioso perché la gente ci crede e per me è vero cioè a me veramente piace il mio lavoro però se non ti piace così tanto è faticoso è un lavoro e quindi no però ti capisco perché a me succedeva io sempre racconto questa cosa insomma dell'inseguire il proprio sogno di crederci e a volte rischiare lasciare tutto avevo raccontato di quando magari avevo lasciato un lavoro per fare e tante volte ricevo messaggi sai che dopo che ho visto il tuo messaggio anch'io mi sono licenziato e adesso ma annazzi sì però aspetta nel senso devi cioè non voglio avere poi quel tipo di responsabilità al contrario però allo stesso tempo come te sono molto convinto del messaggio che cerco di veicolare però alle persone in qualche modo questa cosa arriva e a volte hanno anche bisogno di vedere dei casi positivi perché poi non vuol dire che va tutto bene cioè anche oggi hai raccontato che ci sono moltissimi momenti di difficoltà di grandi responsabilità guarda c'è uno dei nostri collaboratori Slim Dogs una delle persone che vive dentro Slim Dogs insieme a noi che è praticamente il mio braccio destro nell'ambito ripresa dentro lo studio quindi se dobbiamo fare delle riprese ci sono o io o lui si chiama Gianluca tra l'altro bellissimo nome peraltro è un passione migliore credibile e lui è proprio una di quelle persone che a un certo punto ha fatto il colpo di testa e da un lavoro d'ufficio classico dove dovevi scrivere delle cose al computer di cui non te ne fregava un cazzo ha mollato tutto e ha deciso di fare il percorso del videomaker e il primo gancio lui mi ha raccontato che è stato un video di Human Safari e poi ha visto un mio video dove si chiamava le quattro fasi della creatività poi ha visto sicuramente tanta altra roba però dice che Human Safari e questo video delle fasi della creatività sono stati un piccolo cosino che gli ha triggerato un pezzo del cervello quindi ora è tutto bello perché lavoriamo insieme e ci siamo fomentati siamo esauriti nello stesso modo e quindi è bello però magari ci sono altre persone che hanno fatto la stessa cosa e adesso non lavorano dentro Slim Dogs contenti di lavorarci quindi è sempre impegnativo si è vero però è anche vero che se ti senti di fare poi quella roba lì evidentemente poi ne verrà fuori un'altra quindi assolutamente ti ringrazio anche io perché comunque ad esempio il basement quello che sta succedendo adesso il fatto di aver fatto una squadra eccetera è una cosa che tu hai fatto in realtà tanto tempo fa prima di altri quindi questa cosa io ne sono certo ed è stata anche di grande ispirazione ad esempio anche per me quindi quando andrà tutto male si si verrò a te adesso mi assumi adesso mi assumi faccio il sedicesimo dipendente però non so fare buchi non so fare quello si impara però ti ringrazio davvero per questa chiacchierata super ci tenevo un casino è stato bello e in bocca al lupo per tutto anzi no l'ultimissima cosa per chiuderci tu ce l'hai un obiettivo un tuo sogno concreto se non lo vuoi dire per scaramanzia no 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 il mio sogno è fare documentari il documentario e piano piano adesso scusami è vero adesso in questo periodo su quello non abbiamo parlato dell'ultimo progetto stai seguendo recentemente abbiamo fatto partire dall'inizio dell'anno un progetto di taglio documentaristico sul canale cane secco l'idea è di provare a prendere personaggi che hanno avuto successo comunque riescono a vivere del proprio fare cose sull'internet e cercare di capire qual è quella formulina che l'ha fatti funzionare cioè perché proprio tu nel senso io toby è il primo Karim è stato il primo episodio e quindi il concetto è sei una persona tra l'altro lui mega umile con la sindrome dell'impostore che si dipinge come una persona normale però poi sei io toby cioè nel senso fa tipo dei numeri fuori di testa ogni volta da sempre e quindi la domanda è vabbè zio ma perché proprio tu e quindi cercare di snocciolare qualcosa da questo e usiamo le costruzioni lego che non ci pagano no però diciamo gli amici di lego no sì ma infatti però ecco il concetto è costruisciti quindi gli do 50 pezzi lego e gli dico costruisciti vai e poi si ragiona su perché hai costruito questo pupazzetto per ora ci sono due episodi c'è io toby e c'è sio dal canale scontex sì pazzesco anche sio cioè nel senso lui ha costruito per esempio un oggetto fuori ha usato tutti i pezzi era il suo obiettivo usare tutti i pezzi del set e ecco lì mi sento a casa nel linguaggio documentaristico sento che c'è quella roba che mi fa proprio vibrare qualcosa nell'anima perché credo che sia anche una cosa in cui ti arricchisci tu perché scopri delle cose di altre persone tra quelli che hai fatto fino adesso quelli che vuoi fare trovi dei fili conduttori comuni delle cose ovviamente io ho anche preintervistato altre persone per i prossimi settimana prossima iniziamo a girare il terzo episodio e l'elemento comune secondo me è sempre un po' il chiedersi perché proprio io cioè quindi secondo me qualunque lavoro artistico che non si basa su un dato oggettivo cioè ho costruito il grattacello più alto del mondo quindi sono l'architetto che ha progettato il grattacello più alto del mondo è oggettivo invece su una roba artistica cioè ogni tanto ti chiedi ma oggi va bene domani come andrà cioè sono ancora interessante oppure è stato solo culo e quindi quella cosettina secondo me è l'elemento che hanno in comune tutte le persone con cui ho parlato io per questi documentari beh fighissimo ognuno a modo suo c'è un documentario che ti ha svoltato nell'ultimo periodo che consigli? allora lì sopra vedo che tu hai Let It Be fuori di testa fuori di testa io sono rimasto fermo sul divano mezz'ora dopo averlo finito in silenzio cioè Peter Jackson ha fatto per una volta per quanto mi riguarda una roba incredibilmente lunga che io sognavo che durasse ancora di più e quindi Let It Be per esempio mi ha fatto ragionare su quanto della roba che oggi è di scarto tra un tot di tempo può diventare pazzesco guarda The Last Dance è stata la stessa cosa nel basket perché è comunque un video che tu dici come cazzo ho fatto questo materiale a restare intatto cioè non l'hanno usato da nessuno lì perché non voleva Michael Jordan però per tutti questi anni l'ho tirato fuori poi dopo diventa una cosa clamorosa però il linguaggio dei documentari è molto attuale adesso tutti stanno facendo un po' di documentare ci stiamo allontanando dalla visione del documentario che è solo il leone e la gazzella nella savana perché fino a qualche anno fa dicevi vado a fare un documentario e ti dicevano ah in Africa no non c'è solo quello ma ti sono capitate proposte o magari che hai rifiutato o non è una perché tu per esempio questo documentario tu l'hai pensato direttamente per YouTube cioè tu ragioni per io lo metto su YouTube questo sì perché la TV come si pone nei tuoi confronti come ti poni tu nei confronti della TV e oggi sono arrivato anche delle piattaforme che sono un'altra cosa con cui peraltro anche già collabori com'è questo sistema la TV secondo me come entità adesso non ha molto più senso chiamarla la TV è più che altro qualcosa che ti produce un prodotto e poi lo distribuisce quindi che poi sia la TV tipo Sky cioè la TV generalista oppure Sky oppure io credo che per noi per il tipo di roba che creiamo e anche vediamo ci sia più come obiettivo di arrivare su qualche piattaforma cioè quindi che sia Prime Video Netflix o roba simile quello è il nostro punto d'arrivo secondo me perché è più giusto è più sensato questi documentari che stiamo facendo sul canale YouTube Canesecco secondo me per ora la prima stagione abbiamo detto ragazzi facciamolo investendoci noi chi se ne frega tanto ci costano relativamente poco perché lo sappiamo fare giochiamo in casa quindi non hanno un costo cioè si può fare e rientra nel piano editoriale rientra nel piano editoriale di Canesecco ah di Canesecco perché è sul mio canale personale e è bello perché è un investimento perché non lo fai per ora la prima stagione per guadagnarci ma per misurarti su un formato che non hai ancora vissuto certo senza una piattaforma dietro che ti dice questo non lo puoi fare questo lo devi dire quindi liberi facciamolo vediamo che succede poi è ovvio che serve da pazzi pensare a una seconda stagione così perché a quel punto lo stai facendo per hobby beh lì anche perché poi anche molti personaggi che stai intervistando eccetera funzionano molto sulla piattaforma su cui stai importando il contenuto quindi anche quella cosa ma secondo me può diventare una cosa molto più larga si si può allargare tranquillamente perché comunque si parla di persone che hanno avuto successo e gli chiedi perché hai avuto successo quindi in qualche modo ne esci di grande ispirazione c'è qualcosa a cui hai detto no lungo questi anni che ti hanno proposto la voglia allora partendo dalle varie collaborazioni in quanto influencer con dei brand che dici che non c'è andrà un cazzo con te questo non mi piace tipo la collaborazione di brand più sensata della mia vita è con Sony certo perché io uso Sony sono un videomaker arriva Sony e dice ciao vuoi continuare a fare quello che già fai in più però c'hai il tuo faccione sul sito e hai degli oggetti da poter usare per il tuo lavoro sono stupido se ti dico no però sono delle cose che funzionano di più perché sono naturali ma poi perché è sensato se mi arrivava un altro brand valido Nikon è valido è buono non lo uso no grazie cioè nel senso poi magari tra un tot di anni cambierai idea però per ora incredibilmente senso però ti capita qualcuno che quindi non ti segue non lo so ti dice perché non facciamo tantissimi brand che si sono proposti dicendo collaboriamo e io tranquillamente ragazzi non sono in linea con massimo rispetto però non c'entro niente e a livello di lavori tendenzialmente il motivo per cui scegli se farlo o non farlo è se è sostenibile cioè non è che non fai un lavoro perché è noioso perché non ti divertirai cioè c'erano tanti lavori che non raccontiamo che sono lavori cioè nel senso da robe di food per esempio quindi tutte le varie ricette in pianta che ne abbiamo fatte a tonnellate però non è che lo racconti perché cioè chi se ne frega a cose che non puoi raccontare perché magari stanno sotto embargo mentre le realizzi infatti anche quello prima dicevi mentre parlavi ci pensavo ci sono delle cose di cui non puoi raccontare inevitabilmente stai nello studio e non puoi fare una storia Instagram in quel lato dello studio perché è allestito per qualcosa però è parte del gioco quando lavori con dei brand come produzione Slim Dogs Slim Dogs ti chiedono ogni cioè gli fa piacere ovviamente quando magari parli di quello che stai facendo ma è una scelta tua se farlo o meno beh sì dipende ci sono state addirittura situazioni in cui nel pacchetto rientrava nel piano di video bravo bravissimo c'era anche il fatto ti faccio promozione tramite i nostri social raccontando infatti questa è un'arma in più bellissima lì fa parte proprio del contratto che fai col brand in altri casi di base non lo racconti se poi decidi che vuoi raccontarlo ne parli ok perché cioè di base se stiamo facendo un lavoro non ci mettiamo a fare le storie Instagram su ah stiamo facendo questo perché non se no lo chiedi tipo cioè la mille miglia noi l'abbiamo seguita per tanti anni e lì abbiamo detto ragazzi va bene se facciamo delle storie Instagram mentre facciamo questo progetto a voglia sì a posto e lì poi sono andate delle cose folli con le persone perché tipo mi spottavano in giro per le città d'Italia perché io stavo attaccato al finestrino con la telecamera nei paesini e quindi la gente faceva le storie Instagram mi tagliava dicevo tutte queste cose spottate in giro per l'Italia beh figo fighissimissimissimissimo vabbè insomma io andrei avanti per mille mille miglia mille miglia orarie a chiacchierare perché sono veramente tutte cose molto interessanti editorialmente poi non abbiamo finito il discorso c'era qualcosa che hai detto di no proposte al di là di lavori di brand cioè dici proprio a livello di sì non so canesecco stai spaccando questa cosa qui vieni a fare boh dico un reality show però qualcosa per cui magari all'epoca perché comunque quando sei della roba tv per esempio in cui mi hanno proposto cioè mi chiedevano se volevano se andava bene di propormi per qualcosa sì e ho detto di no in alcuni casi perché tendenzialmente io cerco di essere poco personaggio e più il videomaker che poi fa un racconto in prima persona però sicuramente non voglio investire sul fatto di essere l'influencer che poi va a fare capito il programma anche perché c'hai parecchia roba da fare quindi c'è un po' da fare ti ho rubato fin troppo tempo dai grazie davvero Matte super mega in bocca al lupo per tutto il resto avanti con i documentari non vedo l'ora di vederle però ma poi mi puoi dire fuori onda chi sono i prossimi certamente va bene grazie davvero ciao guarda che sono tornati senti incredibile perfetto